Ciao a tutti ragazzi Questo è un altro video di Brawl Stars Oggi Andremo a giocare con Barry In questa nuova mappa di Foot Brawl Che è uscita da poco Con un obiettivo Raggiungere le 29.000 coppe Ce ne mancano 20 Adesso giochiamo Anche per il primo Star Drop del giorno E speriamo di Giocare nelle 3 E di vincere nel meno 2 Se la fa a carica E poi alla fine Le spawn del nuovo aggiornamento è bellissimo Qui vediamo Come sempre un Frank C'è sempre conto Troppo forte Adesso Adesso sto prendendo la mano Con Barry Lasciamo Vediamo andare a fare Stiamo a pochi Stiamo anche Degeneratori di mappe Senza coppe Ma non fa Quelle cose Adesso Adesso Giolla Super control Frank Perfetto So devo star sopra Così mi dono vita Mamma Mi sto Anche se lo chiedi I nemici Do un grandissimo Contributo E qui Nulla Due laso qui Mamma Guarda Grande 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 Non ho fatto nessuno Chi Però Ah L'ho fatta uno Adesso Secondo la palla La passo Per forza I miei compagni Semino Semino Guarda Cosa fa Semino Semino Scusate ragazzi Ma che cosa Sta facendo Il semino Dai ambra Dai ambra L'ambra Adesso sta andando Letteralmente Verso La porta Let's go Ragazzi Si era Vagato Intanto Il mostro Per E' Ha fatto Due clips Ha morto Una sola Volta Qui lo portiamo Al grado 5 Esattamente Ora Abbiamo guadagnato 10 coppe Fa drop Vediamo Se per voi Sarà qualcosa È diverso Ma è vero È raro Con punto di gioco Va benissimo 10 coppe Ce ne mancano 10 Alle 29.000 Ok Giochiamo Ecco qui Comunque Cos'è che vogliamo Fare oggi Aggiungere le 29.000 E non Le 29.000 Coppe Ovvero Questo che è un video Molto content Se ci riusciamo Però direi Che 10 coppe Sono quasi fatte E' più bello Quindi Abbiamo Contro Tipo Di Sosta E' più bello Sola Spare 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 non ho visto il posto per te il pacchetto l'intervento il titolo per fare i colpi non entra in posto ma per favore la colette ti reclamorosamente come un tiro così senza senso berri berri è fortissima ragazzi se vede state prendendo magari un altro brawler se un brawler leggendario dipende chi però io ho sito di spike per perdi primo perchè è epic e più facile da sboccare secondo perchè è fortissimo qui attenzione una cosa molto molto content 29000 e 001 coppie qui di 29000 abbiamo anche il primo del blue pass 300 monete per le 29000 coppie e abbiamo anche il primo da riscattare del blue pass che è uno star drop la foglia 11 che chiaramente guarda a caso ci va a dare adesso ragazzi faremo l'ultima partita sempre con berri perchè il video di oggi sarà berri usare berri finora vabbè ci sta che al caso 5 abbiamo fatto 2 su 2 adesso anche se perdiamo non ci dispiace però veramente mille coppie vedi che questi qui sono molto molto po' l'amore di più da uno due per i conti e non più 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 bellissimo bellissimo perché vi faccio danno ma sono immortale clamoroso vai mi diretti il fatto è un concreto che molto più di là comune dal punto di vista dei conti sull'eporto si vede che faccia il grifo la berrile è molto più sottotitoli se non potrebbe essere forte che so perché potremmo subire un gol c'è la nostra musica che si ferma la scuola scuola non forse un uomo che fortuna qui in questo caso Mamma mia Vai Sparo Mamma mia Non sono andato in porti Perché Chiaramente Attenzione Spotto la palla Cosa ho fatto ragazzi Cosa ho fatto Cosa ho fatto ragazzi Sto arrabbiando dentro Attenzione Dobbiamo andare in porta Io e l'altro Barry Oh grande Però abbiamo perso lo stesso Non ho giocato benissimo Abbiamo perso Vabbè Fa niente Vabbè Partiamo una coppa Siamo a 29.000 Esatte E con questo Ragazzi Vi salutiamo E Ci vediamo al prossimo video Mi raccomando Non dico ora Perché mi sono dimenticato Di dirlo prima Iscrivetevi Attivate la campanella Perché quando arriviamo A 150 iscritti Vi ricordo che c'è Il video speciale Adesso in questo momento Siamo a 140 Quindi mi raccomando Non vi costa tanto Schiacciare il pulsante Di iscrizione E iscrivetevi Quindi fatelo Subito Ciao a tutti 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 Ciao a tutti